Quarto concerto dell'Immacolata alla chiesa parrocchiale di San Giacomo di Romano Dezzelino domani alle 20 e 30. Genio e improvvisazione. Bach interpreta Vivaldi, Weber interpreta Bach. Simone Weber ha suonato come solista con l'orchestra di Padova e del Veneto, con l'orchestra Aiden di Trento e Bolzano e con l'orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado. L'ingresso è libero, vede la collaborazione di tutti i gruppi parrocchiali e del locale Gruppo Alpini. Alla fine del concerto sarà offerta una cioccolata calda a tutti i presenti.